Secondo voi si viaggia comodi su un mezzo da corsa? Ovviamente no, il tutto è ottimizzato per ricercare la massima prestazione. Nella nautica però questa consapevolezza sembra non esserci. Gli armatori vogliono barche comode in crociera ed aggressive in regata. E secondo voi è possibile tutto questo? Italia Yachts dice di sì. Questo è l'Italia Yachts 12,98 e io oggi sono a Salerno in Italia per testarlo. Si comincia, siete su The Boat Show. Guardandola già a prima vista, il nuovo 12,98 è riconoscibile. Le linee dello scaffo, il layout di coperta, le sue forme e soluzioni sono inconfondibilmente quelle del cantiere del leone. Questo è un obiettivo di estrema importanza per chi vuole dare un'anima caratteristica ed unica alle proprie imbarcazioni. A poppa la spiaggetta è removibile e aprendo si concede un accesso al mare, ma in regata questa rimane a terra. Entrando in pozzetto si notano già molti dettagli che caratterizzano le due versioni di questo modello. La versione fuori serie è più sportiva, attrezzata in coperta con un rigging aggressivo e tecnico. Noi oggi siamo sulla versione bellissima, tech in coperta e una soluzione per un armo easy sailing. E poi sotto coperta, beh, lo vedrete, lì Mirko Arbore ha espresso tutta la sua personalità. Due panche sospese aumentano la percezione di larghezza dell'area di poppa. Qui l'accessibilità alla cala e allo stivaggio per la zattera. La timoneria è semplice e funzionale. Doppia ruota con doppia bussola analogica e strumentazione con plotter madre a dritta. Due coppie di winch gestiscono tutte le manovre da quello che può essere considerato il pozzetto di manovra. Prua via le torrette di timoneria. Qui le panche non si prolungano troppo verso poppa perché questo spazio è davvero fondamentale. Da questo punto si può condurre comodamente tutta la barca. Forse l'unica pecca è che non c'è spazio per stivare il cordale. Al centro delle due panche un tavolo in tecca ribalta facilmente rimovibile. Le forme della tuga, la sua finestratura allungata, sono ormai una firma inconfondibile del cantiere. Le rotaie longitudinali del fiocco sono recessate sugli spigoli della tuga, ma ovviamente, proa via l'albero, c'è la possibilità della rotaia dell'auto virante. Il roll a fiocco nella versione bellissima è manuale. La delfiniera è di misura ridotta per la crociera con il punto di mura per il frullone e l'uscita dell'attacca del jennaker. Il musone dell'ancora è integrato. In questa configurazione l'albero è in alluminio e non in carbonio, ma il piano velico non è diverso dalla versione da regata fuori serie. Se in coperta l'anima è quella di un puro sangue da corsa, sotto coperta la visione di Mirko Arbore ha virato su una proposta diversa. Il suo intento è stato quello di creare un clima il più possibile confortevole e casalingo per chi dopo essersi divertito al timone e scende al coperto per rilassarsi. Per fare questo, la scelta dei materiali e la gestione della luce hanno giocato un ruolo fondamentale. Il tessuto, caldo ed accogliente, avvolge tutte le paratie con sfumature di colore per aumentare la profondità e la percezione dei volumi. La gestione della fonte luminosa, in sinergia con i vari livelli del disegno delle paratie, permette di diffondere la luce senza mai punti di luce diretta. Ambienti senza illuminazione a celino, dove le lampade sono le paratie stesse ed i complementi d'arredo. Scendendo nel quadrato, sul bordo di sinistra, la cucina ha L. Piano in corian, stipetti in legno, un primo frigo a pozzetto da 160 litri e un secondo a cassetto. Dettaglio da non trascurare, il TNT bene in acciaio a fianco al lavello e quello ricavato dal tavolo da carteggio. Perché anche se la sensazione deve essere quella di casa, non bisogna mai dimenticarsi che in barca ci sono delle esigenze imprescindibili, tipo la sicurezza. Sulla murata opposta alla cucina, il bagno con box doccia separato, dedicato alle due cucette gemelle di poppa. La zona del carteggio, come in molti altri modelli, è stata rimpiazzata da un divano ampio e comodo, ma la strumentazione di bordo è qui, dietro alle veneziane in Tecmassello. A prua, nella cabina armatoriale, la luce diffusa e le linee caratteristiche dei complementi d'arredo continuano la morbidezza ed eleganza patronale del design del nuovo 1298. Il bagno armatoriale, nella versione fuori serie, verrebbe impiegato come vano spogliatoio per cerate, bagnate o storage. Normalmente la prova di navigazione mi piace farla da solo, per non essere influenzato da niente e da nessuno. Ma quando l'amministratore delegato del cantiere, Daniele De Tullio, imbarca a ci sa andare molto bene, allora cosa c'è di meglio di farsi due borde insieme? Che dici? Sei pronto? Prontissimi. Questa barca, il 1298, è una barca ricercata nei minimi dettagli, ma soprattutto scientifica. Il disegno è un pochino romantico, no? Della matita del progettista qua è stato bypassato e si è arrivati direttamente al computer, che ha tirato fuori nove scafi che avete fatto regattare in regate virtuali e poi alla fine ha vinto questa. I nove scafi che sono risultati quelli non solo più veloci, anche più efficienti in termini di navigabilità, li abbiamo messi a confronto e in una fase poi finale abbiamo veramente sviluppato delle regate da 6 a 20 nodi con i tre scafi che a noi risultavano i più veloci. Lo scafo è uguale sia nella versione fuori serie che nella versione bellissima, quella su cui siamo oggi, però invece gli appendici cambiano, sia la pinna che proprio il bulbo. Anche la chiglia come gli scafi hanno avuto necessità di uno sviluppo di WPP e CFD e quindi di un'analisi delle matematiche. Inizialmente pensavamo che il disegno non si sarebbe differenziato tanto per soli 25 cm di lunghezza. In realtà i baricentri che ci sono sviluppati hanno generato una forma particolarmente differente. Tra la versione bellissima e quella fuori serie tutto l'arredamento interno, quindi anche la disposizione dei pesi a bordo è diverso, più o meno visto che stiamo parlando di un delta di 800 kg. E ho parlato con Maurizio Cossutti che ricordiamo che è il disegnatore, il progettista, il capo del progetto del disegno della chiglia, lui mi ha raccontato proprio che riuscire a ottimizzare uno scafo per due diversi dislocamenti è qualcosa di molto complicato, però ce l'avete fatta. Sì, e questa è anche una delle ragioni per le quali le due barche hanno due figlie diverse, perché né in un caso né nell'altro l'efficienza e la stabilità della barca deve essere pregiudicata. Considera che una barca di queste dimensioni, più o meno di 12 metri, ogni 200 kg ci sono circa un centimetro di differenza di galleggiamenti. Chiaramente tutto questo attraverso un computer è molto più semplice perché l'acqua non si muove e fissa, puoi decidere la sua stabilità e soprattutto anche la sua salinità, perché la barca a seconda della salinità gallegge in maniera diversa. Era fondamentale che sia la barca da crociera che la barca da regata centrassero queste caratteristiche e pertanto era fondamentale avere anche due appendici differenti. Già risalendo su al vento, andando un po' di bolina, la sensazione al timone è impressionante, perché quello che percepisce è come se fosse un grande dinghi. Il progettista Cossutti è partito dal disegno di una barca stretta, ottimizzata per il Mediterraneo e soprattutto ottimizzata per le boe, per arrivare primi anche in reale alla boe di bolina. Sì, diciamo che soprattutto sulle regate in Mediterraneo upwind-downwind un elemento fondamentale è comunque generare una barca molto veloce di bolina, che è un elemento importante anche poi quando si va in crociera, dove l'armatore può incontrare maggiori difficoltà. Il momento della crociera però, un momento che su una barca stretta adatta per risalire il vento in modo perfetto, come sta facendo adesso questa, può avere una contraindicazione, se non una barca stretta può avere più momento di sbandamento. Sì, l'RM che è il rating moment della barca, in realtà è l'insieme di una serie di fattori e questo lo fai attraverso il posizionamento, l'omega diciamo, del piano bellico, della superficie bagnata, del coefficiente prismatico e dell'appendici stessa. Allora, comincio a darvi due dati. Oggi siamo a Salerno e il tempo è particolare. Il vento è meraviglioso, speso, arriva da terra, il mare è piatto, ma è rafficato e gira moltissimo. Sono sicuro che possiamo arrivare a superare, o perlomeno a scendere sotto, i 30 gradi all'apparenza. Sette nodi punto 4 e siamo a 28 gradi. 11.8 i nodi di pressione. Sotto SPI la sensazione sinceramente non cambia, è veramente un giocattolo tenerla in mano ed è molto divertente. Sì, sì. Ci stiamo divertendo. Stiamo su 140 adesso, 11 nodi punto 2 di pressione, ne stiamo facendo 9.9, 10.2. Beh, direi sempre non male. Daniele, riuscirei a trovare un compromesso tra la velocità di punta, la velocità reale che questo scafo ha e poi invece ottimizzarlo per la regatta, quindi dargli un'ottimizzazione incompensato. Non è facile. Bisogna decidere che cosa far uscire di più e cosa magari limitare di più di uno scafo, no? Sì, allora, innanzitutto una barca che corre nel circuito Ork come il suo primo avversario a se stesso e quindi il suo certificato. Pertanto l'obiettivo è generare un WPP, quindi una previsione di velocità, che abbia un giusto balance con le prestazioni che la barca ha in acqua. Il gioco poi in mare è quello di ampliare la prestazione andando sopra il 100%. Per darti un numero affinché sia significativo, un 11.98 naviga intorno al 108-109% della sua performance teorica, quindi 8-9% superiore. Noi su questa abbiamo stimato di riuscire a fare anche un pochettino di più, soprattutto perché essendo un po' più lunga ci consente anche di migliorare un po' le prestazioni di bolina con vento forte. Insomma, il nuovo Italia Yachts 12.98 è una barca di design e comoda, ma nata per correre. E secondo me il suo futuro e il suo destino sarà quello di tutte le sue altre sorelle, quello di vincere e vincere tanto. Grazie. Grazie.